Allora, quanto vuoi sentire la storia della peccora gialla? Bene. Peccora gialla. Mi sarà una battuta molto sensata. Una barzelletta molto sensata. Eh vabbè, allora, c'è un pastore in montagna. No, no. Dai, oh, sì. Scusa, scusa. E questo pastore c'ha 100 pecore. Uh, aspetta, c'è... Mooney. Allora, insomma, questo pastore c'ha 100 pecore. 99 bianche e una gialla. Un giorno, mentre era a portarle a spazzo per i campi, perde quella gialla. Riccardo. Sì, perde quella gialla e la cerca, la cerca, la cerca per molti giorni e trovano la prova. Vabbè, dai, te ne racconto un altro. Allora, mia nonna... Mi dà la storia. Bella. Allora, mia nonna... Dai, te ne racconto un altro secondo me. Gialla, è una gialla. Abita in un palazzo di 100 piani. E... Lei abita all'ultimo piano. Allora, a prendere l'ascensore una mattina per salire, perché era andata a fare la spesa. Prendere l'ascensore, però questo ascensore non funziona molto bene e quindi in alcuni piani va e in alcuni no. Prendere l'ascensore, dall'1 al 12 va in ascensore, poi il 12 scende e comincia ad andare a piedi per le scale e arriva al 21. Al 21 sale sull'ascensore, va al 32, al 32 scende e prende l'ascensore di... no, va a piedi fino al 43. E... al 47 scende e... va a piedi fino al 52. Al 52 scende e va in ascensore... no, sale sull'ascensore. Ehm... Complicata sta fattore. Al 67 scende e va fino al 73 a piedi, poi prende l'ascensore e va fino all'84. Dall'84 al 92 va a piedi, dal 92 al 100 va in una cintura. Allora, arriva su... Ehm... Trova la porta degli ascensori, quella per la manutenzione aperta. Allora, visto che questo ascensore non funziona molto bene, prova a vedere se c'è qualcuno, magari che lo aggiustano. E, però, non c'è nessuno. C'è uno stanzino... E... con la porta aperta dentro questa stanza. Allora, prova a guardare se c'è qualcuno anche lì, però non c'è nessuno. Allora, esce... Da questa stanza, perchè... Vabbè... Esce da questa stanza! No, no, esce... Ma c'è... E' normale! E chiama il secondo ascensore. L'ascensore si apre e indovina chi c'è dentro? La nonna. No. La peccola gialla! Allora! Allora! Metà! shehehehe! Ahahahhah! Waahhh! Ma è bellissima! Vabbè, ancora la giacca! Me ne ero anche scordata da quella giacca! Eh lo so, con tutti quei di me... In teoria era quella, in teoria! Sì, dè.